Non ci sta alle polemiche scaturite dopo la pubblicazione delle intercettazioni sul caso balneabilità di quest'estate Enzo Del Vecchio. Dopo la richiesta di dimissioni avanzata dall'opposizione nel corso del Consiglio Comunale, decide di fare alcune precisazioni su quanto circolato negli ultimi giorni. Gli atti sono alla portata di tutti, sono pubblici. Riportare questi atti in maniera parziale o distorta chiaramente alterano quella che è la realtà dei fatti. Io ho letto, ho visto notizie che non rispondevano alla realtà. Ci sono gli atti, ci sono le intercettazioni ed è da quell'intercettazione che si comprende che i dati sono arrivati nella giornata del 3 di agosto. L'errore della macchina amministrativa, di un comune farraginoso che non riesce a... sono questioni che attengono a un altro profilo che sicuramente qualcuno valuterà. Quello che ho voluto precisare è che le responsabilità possono partire da quella data, da quel momento. Peraltro leggendo i dati in maniera corretta si evince che purtroppo per un flusso non coerente con i prelievi delle acque danno valori e danno risultati a distanza di qualche giorno. In quelle giornate in cui si presumeva che il mare non fosse balneabile, in realtà era balneabile. Quindi la riflessione va fatta a tutto tondo e non come qualcuno vorrebbe fare.